Come le previsioni della vigilia avevano indicato Paolo Gentiloni è il nuovo presidente del Consiglio Italiano. La conferma è arrivata nella mattinata di domenica quando il presidente della Repubblica Mattarella gli ha conferito l'incarico. Gentiloni lo ha accettato con riserva e nella giornata di domenica e di lunedì farà delle brevissime consultazioni a cui non parteciperanno la Lega Nord ed il Movimento 5 Stelle. Dunque nel primo discorso che ha fatto Gentiloni ha messo in evidenza che l'ex premier Renzi non si sarebbe ricandidato e che assicurerà i cittadini di affrontare con impegno e determinazione le priorità internazionali a partire dalla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. Poi in merito all'atteggiamento delle opposizioni ha messo in evidenza l'indisponibilità delle stesse e a condividere con la maggioranza attuale un governo di responsabilità.